eccoci qui una giornata piovosa in lombardia credo un po in tutto il nord italia ma la pioggia porta notizie molto 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 importanti ben ritrovati come state vi ricordo come sempre di commentare numerosi qui sotto con il vostro punto di vista condividiamolo confrontiamoci sempre con civiltà e rispetto lasciate un bel like se amate il milan iscrivetevi da questa parte attivate la campanella vi ricordo anche due cose di iscrivervi al mio canale personale vi metto qui sotto il link con anticipazioni importanti e breaking news anche e soprattutto di milan qui sotto iscrivetevi arriviamo presto 20.000 iscritti grazie per chi lo farà seguiteci su instagram milanello e andrea longoni e per collaborazioni commerciali volete sponsorizzare i vostri prodotti volete mandarmi qualcosa a mangiare aziende idee pagine instagram o facebook per promuoverle qui sotto la mail milanellolive chiocciolagmail.com allora ragazzi giornata piovosa io sono meteoropatico ma oggi sono di buon umore non lo so come mai o forse sì beh nel video di questa mattina vi ho raccontato gli sviluppi che mi sono arrivati nelle scorse ore dalla dall'amico dalla fonte araba sul discorso legato all'interesse di gruppi arabi sul milan a ruolo di maldini che ha fatto altri blitz con volo privato in direzione appunto arabia saudita il tema stadio che è molto importante nel video precedente vi dicevo tema stadio molto importante tra poco dopo aver affrontato il tema stadio parleremo di lopeteghi rimanete lì sintonizzati vedete perché lopeteghi qualcuno sa già qualcuno non sa ma sviluppiamo insieme quindi tema stadio molto importante per accelerare per fare questa situazione di passaggio di proprietà oppure di ingresso inizialmente con la minoranza con marzo barra aprile che possono essere dei mesi molto significativi quindi aspettiamo notizie sullo stadio notizie sullo stadio sono arrivate perché il milan ha acquistato si sapeva ecco milan aveva già deliberato con il cda questo passo che però è arrivato ufficialmente nelle scorse ore attraverso l'acquisizione del del terreno di san francesco zona san donato attraverso sport sport city life quel terreno dove usiamo sempre il condizionale dovrebbe sorgere lo stadio è un passo molto importante è un passo che secondo me si può anche esibire seppur non come biglietto da visita complessivo a possibili investitori barra acquirenti quindi minoranza barra maggioranza e ora ecco diciamo che si fa sul serio si fa sul serio con buona pace del sindaco di milano che comunque spera ancora che e bisogna andare avanti dritti 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 e possibilmente spediti attenzione però perché notizia di oggi chiara valle contro lo stadio del milano san donato la bazzia è a 850 metri dalla zona del nuovo impianto i residenti chiedono un referendum cosa già vista da altre parti monaci e residenti temono uno stravolgimento per l'intero territorio a rischio i luoghi storici il parco agricolo sud e anche un nuovo modo di vivere la città con ritmi più umani insomma può sembrare una barzelletta ma non lo è qui c'è di mezzo pure monastero di chiara valle ci sarà questo hanno chiesto questo referendum quanto meno hanno paura che l'area verga stravolta nelle abitudini nella tra virgolette è quiete e quindi troppo vicino allo stadio alla loro zone non vogliono che venga fatto lo stadio l'area della bazzia del monastero è di proprietà in parte del demanio in parte del comune di milano cui appartiene anche il quartiere di chiara valle 1100 abitanti quali mai come stavolta hanno proprio scelto questo tipo di residenza non ci sono approdati intontiti da un agente immobiliare che narrava di quartiere con i nomi in sigla che manca new york vabbè questo è un po filosofia in ogni caso vedremo gli sviluppi costruire una grande infrastruttura in una zona dove non c'è nulla un costo ambientale sociale enorme rispetto a un meazza che già esiste ed è servito così invece un ingegnere civile del politecnico tradotto ragazzi c'è già il partito del no anche da quella parte che ha depositato la richiesta di un referendum il nostro comune ha 32 mila abitanti e l'impianto ne dovrebbe ospitare il doppio avremo problemi e criticità di traffico ordine pubblico inquinamento paesaggio eccetera eccetera ragazzi quindi ci sarà questo ostacolo da superare che che va affrontato comunque non è che adesso è tutta discesa intendiamoci la burocrazia c'è va superata affrontata sconfitta mi verrebbe da dire perché sembra davvero una battaglia e vedremo un po quali saranno gli sviluppi però il passo importante comunque un investimento l'altra volta qualcuno mi ha detto sì tanto loro comprano poi potrebbero fare anche come investimento rivenderlo perché già quell'area doveva essere destinata a qualcos'altro qualcuno ha criticato figurati si spendono 40 milioni per investimento ecco 40 milioni per loro non sono 40 milioni per noi ecco è un'area che comunque può avere un valore era già pensata per questa zona di sport vediamo che cosa succede comunque la verità è una che la verità in tasca non ce l'ha nessuno in questo momento sul futuro ci possono essere soltanto supposizioni ma un dato di fatto e la spunta verde la bandierina messa sul terreno di san francesco voltiamo pagina lopeteghi qui divento lo dico meno euforico lopeteghi è un tecnico nato il 28 agosto del 66 ex calciatore spagnolo faceva il portiere aveva fatto una carriera tra real madrid una presenza barcellona rayo valo cano las palmas castiglia in nazionale era finito fino all'under 20 poi ha fatto una carriera da allenatore ecco prima di entrare nel dettaglio ieri il collega molto preparato in spagna moretto matteo moretto ha scritto leggo testualmente lopeteghi è uno dei più apprezzati dalla dirigenza del minan per metodologie competenze e capacità di sviluppare un progetto giovane e vincente questo quando l'ho letto sono sobbalzato sulla sedia uno di voi che non conoscono non ricordo il nome mi ha scritto su instagram e sinceramente non ricordo più non posso risalire un paio di settimane fa mi aveva scritto guarda ho fatto una cena con una persona in ambito milan e mi diceva che il minan ha già l'accordo con lopeteghi da due mesi erano i momenti caldi della notizia del mio collega monblano su conte sinceramente con il massimo rispetto ho preso atto non ho sviluppato più di tanto l'ho anche un po sottovalutata ieri ho detto cavolo cavolo però non conoscevo la persona non riuscivo ad andare oltre quindi non non mi sembrava il caso di parlarne qui voglio dire una cosa lopeteghi ha fatto carriera d'allenatore nel raio vallecano castiglia spagna under 19 spagna under 20 spagna under 21 porto spagna nazionale maggiore real madrid siviglia wolverhampton sapete in questa carriera che cosa ha vinto il signor lopeteghi notizia che sto provando a verificare e potrei avere dei dettagli a breve ha vinto un europa league stop un campionato d'europa under 19 un campionato d'europa under 21 ragazzi ma non mi basta sapere che ha vinto l'europeo con l'under 19 l'under 21 per dire che è bravo a costruire i progetti vincenti ma di che cosa parliamo ha vinto l'europa league col siviglia una stop non ha mai vinto una coppa nazionale con i grandi non ha mai vinto un campionato con i grandi poi direte però che squadra allenato e se allenato certe squadre ci sarà un motivo no chiediamoci anche il perché poi comunque lui dare al madrid è passato è durato è durato come un temporale estivo a ferragosto viene passa arena madrid è durato da agosto a ottobre 2018 poi ha fatto tre anni e qualcosa a siviglia prima di essere esonerato poi ha fatto wolverhampton è arrivato tredicesimo subentrando al porto ha fatto secondo il primo anno il secondo anno è stato esonerato a rayo valecano è stato esonerato a castiglia è arrivato sesto in categorie minori ragazzi ma di che cosa stiamo parlando e con la spagna non aveva fatto bene con la spagna c'è durato due anni 20 giocate 14 vittori 6 pareggi 0 sconfitti ok però l'hanno mandato via ci sarà un perché no si era andato a real madrid diciamo che si era casato real madrid era forse andato via lui ha fatto anche un pastigio poi durato pochissimo a real madrid ha perso 5-1 col barça era nono il real madrid in mano lopeteghi che è spagnolo immaginatelo in italia deve conoscere tutto del campionato italiano non sa che cosa significa andare in trasferta a udine piuttosto che a bologna non sa che cosa significa affrontare una squadra di italiano sa zero è un allenatore secondo me che ha dimostrato di essere a livelli discreti forse non dico mediocre perché ha vinto un europa league però basta al milan serve un allenatore con esperienza in serie a non uno spagnolo che non ha fatto bene non è neanche una scommessa affascinante ha fatto male anche nella sua patria e tutto questo progetto di vincente non perché ha vinto l'europeo under 19 under 20 con una spagna che aveva dei giocatori incredibili in quell'epoca dico ah che bello è perfetto per noi ragazzi mettiamoci d'accordo cosa vogliamo fare da grandi noi sappiamo che vogliamo vincere altri non lo so e se vai su lopeteghi significa che fai una scelta non costosa provi a buttare fumo negli occhi perché lopeteghi comunque è un nome ma sì dai no non ci siamo capiti non esiste proprio la candidatura di Conte fortunatamente resta più che in piedi con Zlatan Ibrahimovic ora sto provando a verificare quest'altra cosa perché mi è già arrivata un'altra notizia però voglio verificarla però ragazzi non scherziamo è diventato anche buio quando ho parlato di lopeteghi arrivo a dire quei quasi mi tengo pioli che ritengo però finito il suo ciclo non facciamo cose cioè Tabarez Terim no allenatore italiano in Italia in Italia deve essere non siamo che arriviamo da dieci anni di vittoria e possiamo fare anche la scommessa no no non ci siamo capiti proprio non abbiamo nel naso lopeteghi l'ho già sentito lopeteghi poi va a vedere cioè sappiamo che cosa ha fatto sinceramente pensavo avesse vinto qualcosa di più invece ha vinto soltanto l'Europa League non è facile da vincere però allora Emery che cos'è? ragazzi Milano è una cosa seria abbiamo dirigenza inesperta proprietà lontana mettiamo anche l'allenatore inesperto in serie A davvero completiamo e consegniamoci a un disastro annunciato è tornata la luce ripeto però sto cercando di verificare e dico forza Ibra forza Conte in questo momento mi hai diviso ci sono più teste più volontà più desideri io spero che possa vincere questo desiderio qui e non figure ripeto esotiche se dopo Real Madrid è andato a Siviglia e poi Wolverhampton sta andando in giù e lo prendiamo Real Milan metodologia progetto vincente ragazzi facciamo le cose semplici non inventiamoci non siamo nelle condizioni di inventare cose quindi io sarei profondamente deluso dovesse spuntarla Lopeteghi ditemi che ne pensate più tardi però vi do un aggiornamento commentatori numerosi lasciate un like iscrivetevi quindi bene il discorso stadio male questo apprezzamento su Lopeteghi più tardi vi darò altri aggiornamenti un abbraccio vi rimando al video di questa mattina sul discorso arabo ciao